Ad è stato clamore, come era prevedibile, la notizia dell'incidente ieri mattina in Via Ghezzi, nel quale è rimasto coinvolto un ciclista, Saccense, che dopo essere stato attaccato da un cane è finito a terra, continuando a subire l'aggressione dell'animale. Episodio che ha fatto scattare l'ennesima denuncia nei confronti del comune di Sciacche, che ha riaccesso i riflettori sull'emergenza al rendeggismo. Problematica, afferma oggi il consigliere Teresa Bilello, che a distanza di quasi un anno dall'orribile strage di Muciare, è ancora ferma al palo. Le uniche novità, scrive il consigliere Pentastellato, sono nuova aggressione ai cittadini, conseguenti denunce al comune e la presenza di oltre 350 cani organizzati in branchi, in netto aumento rispetto all'anno scorso. Ed è all'amministrazione Valenti che viene adebitata la responsabilità di tutto ciò, anche in relazione alla terapia d'urto, con la quale il sindaco ha giustificato nei mesi scorsi l'azzeramento della soggiunta e che evidentemente per Teresa Bilello non ha affatto prodotto il risultato annunciato. Anche sul rendeggismo, solo immobilismo e promesse alle quali non si riesce a dare seguito, prosegue infatti l'esponente del Movimento 5 Stelle, che adebita all'amministrazione comunale anche la chiusura alle proposte, cheppure su questa problematica sono arrivate da cittadini, associazioni e forze politiche. Del rendeggismo, precisa il Movimento 5 Stelle, si è occupato a lungo, fornendo all'amministrazione proposte concrete e fattive, che come sempre sono rimaste chiuse nei cassetti. Eppure, aggiunge Teresa Bilello, il sindaco e la massima autorità sanitaria locale, in tale veste può anche emanare ordinanze urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie ed igiene pubblica, e quella del rendeggismo è un'emergenza sanitaria che investe anche l'importante aspetto della sicurezza dei cittadini. Come evidenziato dal Movimento 5 Stelle e confermato anche dal responsabile degli allevamenti dell'ASPE di Agrigento, l'unica soluzione, aggiunge Teresa Bilello, per iniziare ad arginare il problema è quella di riattivare il ciclo di cattura, sterilizzazione e remissione sul territorio dei cani. L'auspicio del consigliere è che il sindaco Valenti passi all'azione, evitando, come successo per altre problematiche, di cercare invece di addossare la responsabilità ad altri.